E' stato un festival che ha messo ancor più all'attenzione nazionale la città di Fano. L'undicesima edizione del festival Passaggi ha superato tutti i record precedenti, concentrando in 5 giorni 137 eventi di grande elevatura culturale, tanto che non c'è stato evento che non ha fatto il pieno di pubblico. A fivolitosi l'eco dell'ultimo incontro e spento l'ultimo riflettore, è rimasto nell'animo della cittadinanza la sensazione di aver preso parte a un grande evento, che ha consentito a molte persone di saperne di più, in fatto di storia, arte, politica, attualità e su tutto ciò che accade sulla ribalta internazionale. A consuntivo il direttore Giovanni Belfiori ha calcolato 35.000 le presenze, 96 libri di saggistica presentati, 68 le case editrici coinvolte. E già oggi si comincia a studiare come organizzare la prossima manifestazione, come reperire i fondi e migliorare ulteriormente l'aspetto organizzativo, un aspetto basato sulla grande risorsa del volontariato. Mentre il comune di Fano sostiene adeguatamente il festival, la regione potrebbe fare di più. E su questo lavoreranno i consiglieri regionali Luca Serfilippi della Lega e Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle. Il passaggio ormai è tra i migliori tre festival del genere a livello nazionale. L'amministrazione in questi anni ha fatto molto e continua a fare, sia in termini di aiuto economico, ma anche nel preparare location alle quali si ne aggiungeranno anche con i nuovi lavori che stiamo facendo, altre ancora. Però diventa importante che arrivino anche rinforzi maggiori da altre istituzioni come la regione, che devo dire che per il decimo anno è stata molto presente, presente anche quest'anno. però visto il livello che ha raggiunto diventa veramente un evento di riferimento anche per la regione Marche e quindi che possa esserci una programmazione non annuale ma almeno triennale come facciamo noi. Un dato importante è la contemporaneità degli eventi. In effetti la contemporaneità è una cosa positiva e una cosa negativa allo stesso tempo. Ti dà la possibilità di avere una varietà di offerta molto ampia, ma ovviamente ti chiede di scegliere e qualche rinuncia la devi fare per forza. È una caratteristica di tutti i grandi festival nazionali. Ci sono ancora dei problemi? Sì, i problemi quelli economici non finiranno mai, credo, perché ci sono sempre e comunque. Stiamo chiedendo rassicurazioni al Comune, stiamo chiedendo rassicurazioni alla regione e anche vorremmo che nel futuro ci siano, come dire, arrivino qualche sponsor nuovo, qualche sponsor in più. Non farebbe male. Più che altro la richiesta è di continuità nel tempo. Avere per esempio un imprenditore privato o anche un ente pubblico che ti dà la garanzia di una sponsorizzazione, di un contributo di tre anni, anziché uno solo, vuol dire già moltissimo. E il fatto di promozioni avete dei riscontri? Davvero una presenza turistica importante, tant'è che noi abbiamo chiesto al Comune l'anno prossimo di misurarla, di affidare a un ente terzo certificato, in modo che ogni manifestazione di Fano possa avere, come dire, possa conoscere qual è l'effetto che ha sulla città dal punto di vista turistico. Comunque il festival dopo cinque giorni non muore, si prolunga anche durante l'anno per la destagionalizzazione. Noi faremo forse qualche cosa a Natale, come abbiamo fatto anche negli altri anni, continueremo l'attività con Scuola Passaggi, con il blog Il Cappuccino delle Cinque, quindi in qualche modo tutto l'anno lavoriamo per il festival.